Con la Juventus, per via della manovra salariale, si va verso una trattativa gratificante. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. L'udienza, inizialmente prevista per il 15 giugno, è prevista nelle prossime ore per il secondo turno del processo sportivo contro la Juventus. Il Tribunale federale ha chiesto di decidere sull'accordo che il club avrebbe raggiunto con la procura, come trapelato nelle ultime ore. Sta andando verso una svolta nella seconda parte del processo sportivo a scapito della Juventus, quella legata alla cosiddetta manovra salariale. La Juventus, secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, ha raggiunto un accordo con il procuratore federale per l'accordo. L'udienza presso il Tribunale federale della FIGICI per la causa contro la Juventus è stata anticipata a domani, 30 maggio, dopo che il processo era originariamente previsto per il 15 giugno. L'anticipo sarebbe legato alla possibilità, ora più vicina, di un patteggiamento, dopo che un primo tentativo era fallito, portando al rinvio della Juve. Ora, tuttavia, sarebbe di nuovo al tavolo, e presto, all'udienza prevista nelle prossime ore, un accordo potrebbe essere raggiunto. La proposta dovrebbe essere valutata lo stesso giorno di martedì 30 maggio.